Due fratelli, Adolf e Rudolf Dassler, e una fabbrica di calzature sportive che conducono insieme. C'è sempre stata una forte rivalità tra loro. Sarebbe più esatto dire che si odiavano a morte. Alla fine si separano. Un fratello fonda la Adidas, l'altro la Puma, nella stessa città. Se qualcuno lavorava alla Puma, il figlio non poteva giocare per l'Adidas. La guerra continua ancora oggi. Puma contro Adidas, Italia contro Francia. La finale della Coppa del Mondo di Calcio 2006 è un duello tra gli sponsor delle due formazioni, in palio il prestigio e il successo commerciale. Abbiamo una fetta di mercato del 56% in tutti gli sport. Siamo il marchio dominante. Saremo i protagonisti di questa Coppa del Mondo. L'Adidas è la numero uno nel calcio. Milioni di persone dentro e fuori lo stadio assistono a un antico duello. Una guerra di marchi. Una guerra tra due fratelli. Eccoci alla tanto attesa finale. Tutto comincia in una cittadina della Germania meridionale, Herzogenaurach, dove il giovane Adidasler disegna e realizza calzature sportive. Successivamente si unisce anche il fratello Rudolf. Insieme fanno dei progetti. Per mettere su un'impresa nel 1920 ci voleva molto coraggio. Tanto di cappello a tutti e due. Anche se avevano due caratteri molto diversi, fino al momento della rottura i due fratelli avevano lavorato molto bene insieme. I due fratelli hanno anche delle cose in comune. Sin da piccoli, Adolf, chiamato sempre Adi, e Rudolf, di due anni maggiore, passano ogni minuto del loro tempo libero a praticare qualche sport. C'era sempre stata una forte rivalità tra i due, specialmente nelle manifestazioni sportive, nelle quali Adolf metteva quasi sempre Rudolf in ombra. È da subito evidente che Adi negli sport è migliore di Rudolf, nonostante gli sforzi del fratello maggiore. Anche sul lavoro hanno attitudini diverse. Nella loro bottega Adi è quello creativo e trascorre giorni e notti lì dentro a progettare una scarpa da ginnastica dopo l'altra. Adolf era una persona molto tranquilla. Uno con i piedi per terra, molto riservato. Ma quando si trattava del suo lavoro, si trasformava. I caratteri dei due erano molto diversi. L'azienda cresce e il rapporto con gli impiegati e i clienti diventa sempre più importante. Mentre Adi è un eccellente disegnatore e artigiano, Rudolf si rivela un eccezionale addetto alle vendite, un uomo d'affari nato. Rudolf aveva il dono della parlantina. Quando metti su un'impresa, nessuno viene da te di sua spontanea volontà. Devi farti conoscere. E questo era il forte di mio cognato. Nell'azienda lui curava l'aspetto commerciale, mentre suo fratello si occupava di quello tecnico. Rudolf Dassler non è fatto per rimanere in una cittadina tranquilla e provinciale come Erzogenaurach. Gli piace la vita dell'uomo di mondo. Rudolf mette su famiglia molto prima del fratello. Sua moglie si chiama Friedel e il loro bambino Armin. Giovane padre e uomo d'affari ormai affermato, Rudolf Dassler ha davanti a sé un luminoso futuro. Era una figura molto autoritaria. Non aveva mai paura di alzare la voce. Lo ricordo sempre come un personaggio molto importante, che fumava la pipa o il sigaro. A modo suo si imponeva molto. Rudolf era una persona molto impulsiva. Aveva anche un certo debole per le donne. E riscuoteva molto successo tra le esponenti del gentil sesso. Tutta la città sa che Rudolf Dassler è un donnaiolo e Friedel, sua moglie, è a conoscenza delle sue avventure. Friedel sapeva che il marito la tradiva. Una volta, mentre era incinta, venne a sapere di una sua relazione con una donna della città. Fu terribile per mia sorella. Era la cosa peggiore da sopportare. Quando lui aveva delle storie fuori città, lei non doveva trovarsi davanti al fatto compiuto. Non era costretta ad affrontare la cosa. E poi molti uomini avevano delle avventure in vacanza. Ma la notizia di quella relazione a due passi da lei la fece stare molto male. Nel 1933 Adolf Hitler sale al potere. I Dassler interpretano i segni della nuova era al loro vantaggio. Nel nuovo sistema riconoscono una fonte di nuove opportunità perché i nazisti danno molta importanza all'attività sportiva e la richiesta di scarpe da ginnastica cresce notevolmente. Ben presto le bandiere con la svastica ricoprono anche Herzogenaurach. Adi e Rudolf Dassler non vogliono essere da meno degli altri. Nel maggio 1933, pochi mesi dopo l'elezione di Hitler, i fratelli Dassler diventano membri del partito nazista. Anni dopo rimpiangeranno quella decisione. Ma al tempo i Dassler sono interessati solo a ingrandire la loro società. Naturalmente, un'impresa commerciale come quella dei fratelli Dassler riceveva molti incentivi dal governo. L'attività sportiva era un modo come un altro per coinvolgere i tedeschi nel nazionalsocialismo. Anche il cerchio familiare si allarga. Un altro matrimonio viene celebrato in quegli anni e viene festeggiato come un evento, poiché Adi è sempre stato considerato uno scapolo incallito. Kete, la bionda sposa, viene dalla cittadina di Pirmasens. Nel ristretto mondo di Herzogenaurach è considerata una forestiera. Rudolf fa da testimone alle nozze. I Dassler sono già molto ricchi e le due coppie vanno d'accordo, perlomeno all'inizio. Grazie alla domanda costante di calzature sportive, sotto il regime i fratelli Dassler hanno bisogno di impianti sempre più grandi. L'azienda è in rapida ascesa. Le due mogli, Kete e Friedel, svolgono un ruolo importante nella gestione, anche se entrambe hanno appena partorito. Friedel lavorava dal lunedì alla domenica. Era instancabile e teneva tutta la contabilità. Mia sorella semplicemente si adeguò e prese il posto che ci si aspettava da lei, nell'azienda di famiglia. Dopo la nascita del piccolo Horst, tutti si aspettano che anche la moglie di Adi, Kete, faccia la sua parte, ma la donna ha progetti più ambiziosi. Quando Kete entrò a far parte della famiglia, rifiutò di accettare un ruolo marginale. Aveva solo 17 anni quando si sposò, ma sapeva già quello che voleva e andò per la sua strada. Friedel è la moglie accondiscendente e Kete la più determinata. Il conflitto è nell'aria. La tensione tra le due donne è palpabile. Kete ha portato nel matrimonio l'ambizione commerciale. Adolf non sarebbe mai stato in grado di avviare un'impresa per conto proprio. L'attività successiva è stata tutta opera di Kete. Era lei la forza trainante. Per quanto riguardava il senso degli affari, Rudolf e Kete erano fatti della stessa pasta. Ma le rivalità intestine alla famiglia non hanno importanza per Armin, figlio di Rudolf e Friedel, e Horst, figlio di Adolf e Kete. I due cugini vanno molto d'accordo, ma non sarà sempre così. Nonostante le tensioni tra Friedel e Kete, le due famiglie vanno a vivere insieme in una splendida casa vicino alla fabbrica. Adolf e la sua famiglia stavano al piano terra. Il primo piano apparteneva a Rudolf e alla sua famiglia e sopravvivevano i genitori. Vivendo sotto lo stesso tetto iniziano i problemi. I litigi diventano sempre più frequenti. Quando due fratelli che dirigono un'impresa si fanno una famiglia, è abbastanza naturale che all'inizio lavorino tutti insieme. Ma l'azienda cresce, anche la famiglia. I figli diventano adulti e si sposano. Avere più famiglie che dirigono una stessa azienda non funziona quasi mai. N'estate 1936, le nuove opportunità di lavoro fanno passare in secondo piano i problemi. Atleti di ogni parte del mondo arrivano a Berlino per partecipare alle Olimpiadi. Tra di loro c'è la stella di colore Jesse Owens. La notizia del suo arrivo giunge anche a Herzogenhauer. Adi Dassler vuole offrire al campione americano delle scarpe fatte su misura. Lo stadio olimpico è la perfetta vetrina per i prodotti dei fratelli Dassler. Gli occhi del mondo sono tutti puntati su Adolf Hitler, ma si spera che vengano notate le scarpe da corsa realizzate da un Adolf meno famoso. I fratelli imprenditori si insediano nel villaggio olimpico. Jesse Owens resta colpito dal modello di Adolf Dassler con chiodi nella parte anteriore. Jesse e Adi si intesero alla perfezione. È un atteggiamento normale tra gli atleti e i loro collaboratori. Lo scopo era lo stesso e c'era una perfetta sintonia. Owens ebbe il suo paio di scarpe disegnato su misura sulla forma ortopedica del suo piede. E lui vinse con quelle scarpe, anche se all'epoca avrebbe vinto comunque. I due fratelli ottennero un grosso vantaggio da quelle Olimpiadi. Jesse Owens aveva vinto la medaglia d'oro indossando le loro scarpe. Questo diede una grande spinta alle vendite e venne menzionato anche nella reclam della società. Lo scoppio della guerra rappresenta un duro colpo per l'azienda. Entrambi i fratelli vengono chiamati alle armi, ma dopo un po' Adi ottiene il permesso di tornare alla fabbrica in quanto artigiano. Gli viene ordinato di assicurare la continuità della produzione, prima di stivali e poi di bazooka a buon mercato. Il conflitto tra i due fratelli sta per esplodere. Tutti e due i fratelli vennero richiamati, sebbene entrambi avessero più di 40 anni. Ma dopo appena un anno Adolf poté tornare a casa a dirigere l'azienda. Rudolf veniva spesso ingaggiato per missioni. Correva voce che fosse entrato a far parte della Gestapo. Più tardi rinnegò tutto. Ma a quanto pare la distanza fra le due famiglie aumentava sempre di più e un giorno i fratelli decisero di andare ognuno per la propria strada. Rudolf, il soldato, è lontano quando gli alleati bombardano la sua regione natale. Friedel, sua moglie, cerca protezione nel rifugio con sua sorella, Betty Bilbac, e suo figlio Armin. Il giorno in cui cadono le bombe segna una svolta per Herzognaurach e per i Dassler. Kete, il figlio Horst e Adolf sono gli ultimi a scendere nel rifugio. Nella necessità si ritrovano tutti a condividere uno spazio limitato. Adolf camminava avanti e indietro nel rifugio. Continuava a ripetere. Sono tornati i porci. La mancanza di fiducia di Rudolf e Friedel nei confronti di Adi e Kete si manifesta con accuse molto feroci. Mia sorella e anche le mie nonne che erano lì pensavano che Adi si riferisse a loro. Ma non era vero. Adolf non avrebbe mai fatto una cosa del genere. I porci. A chi si riferisce Adi? Ai piloti alleati oppure a Friedel e alla sua famiglia? La donna sospetta che Adi voglia togliere a Rudolf i suoi diritti sull'azienda. Io continuavo a ripetere a mia sorella e a mia nonna che Adi stava parlando degli alleati, ma loro ripetevano che si stava riferendo a noi. Così andai da Kete e le dissi che ero sicura che Adolf si stesse riferendo ai soldati alleati, ma che non riuscivo a farlo capire a mia sorella. A quel punto Kete diede sfogo al suo risentimento, dicendomi che io non sapevo quello che lei e suo marito avevano dovuto sopportare. Prima di sposarsi, Adi lasciava tutta l'amministrazione a Rudolf. Ammetto che mio cognato sapeva essere un vero despota, ma non aveva mai nutrito della credine verso il fratello. Ma Adolf evidentemente si lamentava con sua moglie e i suoi lamenti cadevano su un terreno fertile. La fine della guerra non fa diminuire la tensione nella famiglia Dassler. Al contrario, Rudolf torna finalmente a casa e gli americani interrogano suo fratello Adi. Adi Dassler è un nazista dichiarato e viene chiamato a deporre. Durante il processo sottolinea di aver fornito le sue scarpe anche agli atleti americani durante le Olimpiadi. I suoi accusatori ne restano impressionati e lo rilasciano. L'azienda può tornare a funzionare come prima? La questione che si poneva dopo la guerra era chi dovesse essere a capo dell'azienda che era già tornata a Fiorente come prima. Ovviamente ognuno di loro voleva il comando, probabilmente anche a costo di far fuori l'altro. Ma deve essere accaduto qualcos'altro tra i due fratelli perché prima della guerra avevano mandato avanti l'attività con una certa armonia. Anche Rudolf viene interrogato dagli americani e il suo passato nazista gli crea molti problemi. Gli americani non gli credono e l'imprenditore fatica molto a tornare alla fabbrica e alla sua vita. Inizialmente ammette di aver servito nella Gestapo, ma poi ritratta. In seguito Rudolf Dassler viene mandato in un campo di prigionia americano e lì matura un odioso sospetto. Nel campo di prigionia alcuni americani gli dissero che era stato denunciato da una persona molto vicina a lui. Il suo primo pensiero ovviamente andò al fratello che secondo lui voleva appropriarsi dell'azienda. A quel tempo lo stabilimento era già stato ricostruito e lavorava a pieno ritmo. Diciamo che questo sospetto lo fece arrabbiare moltissimo. Credo che Rudolf nutrisse dei sospetti nei confronti di sua cognata, Kete. Non si fidava di lei e non gli piaceva. Mentre Adi era sempre stato un uomo calmo e molto tranquillo, Rudolf riteneva Kete una manipolatrice, una disposta a tutto pur di assumere il controllo dell'impresa. Adolf e Kete hanno davvero intenzione di estromettere Rudolf dall'azienda di famiglia? Rudolf non ne ha le prove. Ma ormai è sicuro della colpevolezza di Adi e si prepara a scendere di nuovo in guerra, stavolta contro suo fratello. Dichiara agli americani che il suo internamento è il risultato di accuse false e mendaci. È possibile che il traditore appartenga alla sua famiglia? Mentre Rudolf è prigioniero degli americani, Adolf allarga il giro di affari. Gli americani si rivolgono a lui per la fornitura di scarpe da baseball e da basket. Per l'azienda quell'offerta rappresentò una svolta. Prima di tutto era un lavoro, il che significava la possibilità di cavarsela bene nei giorni difficili dopo la guerra. E poi era un modo per acquisire una competenza che nessun altro aveva. Prima di quel momento nessuno conosceva sport come il baseball o il football. Fu un momento molto buono per la compagnia. A ricevere l'offerta fu Adolf Dassler, il fratello più giovane e più dinamico. Lui e sua moglie Kete dirigevano tutto. D'altra parte c'era Friedel Dassler che cercava di proteggere il posto del marito. Naturalmente anche lei cercava di ritagliarsi un posto di rilievo nell'azienda, ma era svantaggiato. Rudolf viene rilasciato solo dopo 12 lunghi mesi. Ora non sa cosa fare. La villa dei Dassler è stata requisita dagli americani. Gli altri membri della famiglia vivono nella torre della fabbrica. In quelle condizioni di forzata vicinanza i giovani Armin e Horst vedono i loro genitori scontrarsi sempre più spesso. La resa dei conti si avvicina. Era tutta una questione di soldi. La rivalità tra le due famiglie era solo una questione di soldi. Con sorpresa di tutti, Adolf viene interrogato una seconda volta. Adi Dassler ebbe molti problemi per via del suo passato nazista. Secondo i documenti d'archivio, in quel frangente Rudolf fece di tutto per screditare suo fratello, riportando alle autorità varie maldicenze sul suo conto e fornendo quelle che erano a suo avviso delle prove dei violenti litigi tra Adolf e Kate. Chi dice la verità? Adolf o Rudolf? Gli americani archiviano il caso e i due fratelli vengono liberati. Ma ormai sono acerrimi nemici. Quando si arriva a quel punto, quando due fratelli si lanciano accuse di quel tipo davanti alle autorità, non si può certo più condurre insieme un'azienda. L'unica soluzione è dividere l'azienda. Bisogna informare gli impiegati e gli operai. Il momento della separazione è arrivato. Un giorno Rudolf ci radunò e ci comunicò che lui e il fratello si sarebbero divisi. Ci disse che avremmo dovuto scegliere con chi restare a lavorare in futuro e di dirlo sinceramente. Nessuno dei due se la sarebbe presa, qualunque fosse stata la nostra decisione. Io ero stato assunto da Rudolf e ormai nei suoi confronti non avevo più il timore che avevo all'inizio. Quindi decisi di restare con lui. Gli operai sono sorpresi. Perché è accaduta una cosa simile tra i due fratelli? Nessuno lo sa con certezza. Le voci iniziano a girare. Ne discussi a lungo con mio padre. Lui aveva la sua personale teoria che da allora è stata espressa anche da altre persone. Sto per dire una cosa che potrebbe costarmi cara. la sua teoria era che Horst Dassler non fosse il figlio di suo zio Adolf bensì di suo padre Rudolf. La reputazione di donnaiolo mette Rudolf al centro di Pettegolezzi. Ha una relazione con sua cognata Kete? Una relazione con una persona che apparentemente odia? Alcuni a Herzogenaurach considerano l'idea semplicemente ridicola. Ma trattandosi di Rudolf altri ritengono che sia un'eventualità molto probabile. Non sapremo mai se c'era qualcosa di vero in quelle dicerie. La cosa però spiegherebbe la gravità dei loro dissapori. Non c'era mai stato niente tra Rudolf e Kete e chi sostiene una cosa simile dovrebbe solo stare zitto. Eppure è semplice maldicenza. Non c'è niente di vero in quelle voci. Ma la rottura è definitiva. I dipendenti devono scegliere se andare con Adi il tranquillo inventore o con Rudolf l'efficiente uomo d'affari. La scelta è difficile. La divisione dei materiali non era un problema e nemmeno quella dei macchinari. Il problema erano le persone che andavano sistemate. Quando arriva il momento i due terzi della forza lavoro si schierano con Adi la maggior parte dei quali sono operai. Gli altri che sono per lo più addetti alle vendite scelgono Rudolf. Ebbi la sensazione che entrambi i fratelli furono felici che le cose fossero arrivate alla fine. Quando ci trasferimmo il nostro capo disse finalmente soli dimostreremo a quella gente di cosa siamo capaci. Furono quelle le sue prime parole. Adi Dassler fonda l'Adidas e Rudolf la Puma. a soli 500 metri di distanza. La guerra tra i due fratelli si trasforma in spietata concorrenza tra le due aziende. D'ora in poi Erzog e Naura sarà divisa in due fazioni. La popolazione locale viene gradualmente risucchiata nel conflitto e anche le due squadre di calcio della città si schierano. Se entravi dentro un pub non vedevi un operaio della Puma seduto allo stesso tavolo di uno dell'Adidas e viceversa. I lavoratori sostenevano i propri datori di lavoro. Che fosse per timore o convinzione tutti credevano di stare con l'uomo giusto. a Erzog e Naura si diceva che la gente si guardasse per prima cosa i piedi per vedere se si indossavano Adidas o Puma. Bisogna vivere in prima persona in una piccola città con due grandi fabbriche e due squadre di calcio per capire. Le due parti si evitavano. Le due società di Erzog e Naura sono alla ricerca di potenti alleati come l'allenatore della nazionale di calcio Zepp Erberger. Quando Zepp fa visita a Rudolf Dassler nel nuovo stabilimento la Puma ha una grande occasione ma non offre abbastanza. Erberger voleva dei soldi ma aveva fatto male i conti perché Rudolf Dassler era sordo a quel tipo di richieste. Non era mai disposto a sborsare grosse somme. Il giorno seguente Rudolf ci radunò e disse credo di aver commesso un errore abbiamo dato poco margine a Erberger non sono sicuro che sia stata la scelta migliore ma non preoccupatevi continueremo ad andare avanti. Naturalmente Zepp Erberger andò da Adi Dassler. Tra Erberger e Adolf per quello che ricordo non ci fu mai uno screzio mai una parola di troppo erano legati come due fratelli. sono scelta. I mondiali di calcio del 1954 vedono l'inasprirsi della concorrenza tra Adidas e Puma. La nazionale tedesca indossa scarpe Adidas. Adi Dassler gode della fiducia di Zepper Berger ed è sempre a suo fianco in panchina. Il disegnatore ha prodotto scarpe e attacchetti removibili appositamente per il torneo. Sul terreno bagnato di Berna hanno un'aderenza migliore delle altre. Anche l'arbitro accorda la preferenza all'Adidas. La Germania si afferma come nazione calcistica e l'Adidas come marchio internazionale. All'Adidas seppero gestire la cosa molto bene. Presentarono il mondiale vinto dalla Germania come se fosse una favola in modo così convincente che l'Adidas divenne un marchio internazionale. Per i colleghi della Puma la vittoria della nazionale tedesca fu un vero colpo. Fu un trionfo dell'Adidas celebrato su tutti i giornali. Sono sicuro che anche i loro prodotti erano molto buoni sebbene forse leggermente inferiori ai nostri. Gli elogi all'Adidas rendono furiosi gli avversari perché la Puma aveva già messo in commercio i tacchetti removibili prima dei mondiali del 54. È vero noi avevamo fornito le nostre scarpe per il campionato tedesco nella stagione 52-53. La Nover campione di Germania nel 54 indossava scarpe Puma con tacchetti removibili. Almeno una decina di persone in tutto il mondo dichiararono di aver inventato i tacchetti removibili. Era una polemica continua ma quello che conta è che solo l'Adidas seppe far funzionare davvero quell'idea. È molto probabile che i tacchetti removibili non siano stati inventati né dalla Puma né dall'Adidas ma il trionfo appartiene tutto a quest'ultima. Negli anni seguenti la concorrenza diventa sempre più spietata e Adidasler inizia a sospettare di essere vittima di spionaggio industriale. Il reparto progettazione era sacrosanto per lui. Nessun estraneo era messo lì dentro. Una volta entrò un rappresentante di adesivi e Adolf Dussler lo vide. Quell'uomo veniva spesso ci serviva sempre. Il capo entrò e gli disse se non ti conoscessi così bene ti avrei sparato all'istante. Anche il capo della Puma Rudolf protegge le sue invenzioni ma è molto curioso dell'avversario. Una volta entrai nel suo ufficio e vidi una scarpa Adidas sul tavolo. Era stata tagliata in due. Me la mostrò e disse con tristezza George guarda qui. Io dissi che eravamo stati fortunati perché anche quella volta eravamo riusciti a scoprire molte cose e che erano bene per la nostra società. Lui mi rispose hai ragione ma vedi anche se mi piace il tradimento odio chi tradisce. Per eguagliare il fratello che detesta Rudolf vuole trovare un campione che faccia da testimonial ai suoi prodotti e inizia a contattare le stelle dello sport ma non è disposto a sborsare grosse cifre. Nonostante la spra rivalità i due boss a volte si venivano incontro e spesso lo scopo di tutta la loro accredine non era altro che far aumentare le richieste da parte dei calciatori. A volte facevano anche dei piccoli accordi dividendosi i campioni tedeschi e i club. Per un uomo che all'epoca era il massimo arrivarono persino a stringere un patto di non belligeranza chiamato appunto il patto Pelé. Il brasiliano Pelé è il miglior giocatore di calcio del suo tempo e nel mondo della pubblicità nessuno è più richiesto di lui. Pelé era un giocatore quotato a delle cifre che normalmente nessuno poteva permettersi perché aveva un talento eccezionale. Se le due società avessero iniziato a farsi la guerra per aggiudicarselo avrebbero dovuto sborsare un'enorme somma di denaro per cui arrivarono a un tacito accordo che prevedeva che nessuno di loro lo avrebbe contattato. Rudolf e Friedel Dassler mandano nel 70 il figlio Armin in Messico con il compito di ingaggiare i protagonisti del mondiale di calcio. Può contattare tutti eccetto Pelé ma la tentazione è troppo forte dopo i mondiali Armin Dassler prende un aereo per il Brasile portando con sé 100.000 dollari in contanti. Dicevano che tenesse i soldi in una cassaforte in realtà ce li aveva nascosti in un vaso di fiori. Finalmente anche la Puma ha la sua leggenda ma per arrivare a questo Armin Dassler ha infranto il patto Pelé con l'Adidas. A un certo punto venne fuori che Pelé aveva ricevuto del denaro dalla Puma e questo chiede origine a dei duri scontri tra mio padre e Horst Dassler. La rivalità tra Adi e Rudolf si tramanda ai loro figli. Horst Dassler è diventato nel frattempo amministratore dell'Adidas e affronta Armin sul caso Pelé. Fu un confronto molto acceso ma ormai era troppo tardi. La conseguenza fu che da quel momento in poi tutti i loro accordi saltarono. All'inizio degli anni 70 i calciatori tedeschi sono tra i migliori al mondo. I campioni del paese sono porteggiati da Adidas e Puma. La nazionale della Germania Ovest sceglie l'Adidas ma la Puma non si dà per vinta e cerca di far cambiare marca ai calciatori. Il tiro alla fune arriva a una svolta durante i mondiali del 74. La squadra della Germania Ovest è formata principalmente da calciatori del Bayern Monaco e dal Borussia Mönchengladbach. Durante il campionato alcuni di loro indossano Puma altri Adidas. Ma Adi Dassler vuole che anche chi ha sempre vestito Puma come ad esempio Berti Faust ora passi ad Adidas. Il capo mi ordinò di far provare le scarpe a Berti Faust per evitare che poi dicesse che non gli andavano bene e così feci. Dissi a Faust che il mio capo voleva che provasse le scarpe. gli chiesi di farmi il favore che non potevo raccontargli che le aveva provate se non lo faceva e lui accettò. Prese una scarpa sollevò la linguetta guardò dentro e mi disse ma qui non c'è niente. Allora ero molto ingenuo non sapevo cosa intendesse cosa si aspettasse di trovare quando lo raccontai al capo lui si mise a ridere. Adidas contro Puma la guerra tra i due fratelli fa salire i prezzi alle stelle i calciatori della Nazionale Ovest sanno divenire usati come testimonial pubblicitari e chiedono una percentuale sulle vendite. Nella sede del ritiro a Malente si ribellano. Era la prima volta che dei calciatori insistevano sui loro diritti personali e chiedevano dei soldi per indossare una certa marca di scarpe. Tutta la squadra e i vertici si radunarono nella mensa. C'era una grande divergenza tra il punto di vista dei calciatori e quello della federazione e della nazionale. Non riuscivano ad accordarsi sulla somma da percepire. La discussione andò avanti tutta la notte e i calciatori minacciarono di lasciare il mondiale seduta stante. A Malente calciatori del calibro di Ernest Beckenbauer e Bonhoff discutono tutta la notte con i vertici della nazionale. Eravamo a conoscenza delle somme che circolavano nel loro giro d'affari. Sapevamo che linee adottare e fino a che punto spingerci. Alla fine ci siamo riusciti. Alle 6 del mattino avemmola meglio. Se non avessimo raggiunto un accordo quel giorno la nazionale tedesca sarebbe scesa in campo senza i suoi titolari. alla fine di quella lunga notte i calciatori della Germania Ovest ottengono quello che chiedono. La squadra non boicotterà la Coppa del Mondo. Il disastro è stato evitato all'ultimo minuto. Alla fine i soldi scorrevano a fiumi. Dalla federazione tedesca? No, dall'Adidas attraverso la federazione. La Germania Ovest conquista di nuovo la Coppa del Mondo ancora una volta vestita dall'Adidas che ormai è la beniamina della federazione calcio tedesca. Adi e Rudolf non si parlano ormai da molti anni. Una volta si incontrano casualmente a una fiera di articoli sportivi ma tra di loro c'è solo un gelido silenzio. Nell'autunno 74 pochi mesi dopo la Coppa del Mondo il capo della Puma Rudolf Dassler si ammala gravemente. Ora vorrebbe sistemare le cose con Adi. La guerra non è più contro suo fratello ma contro la morte. Rudolf voleva rivedere il fratello prima di morire. Così suo figlio Armin andò da Adi chiedendogli se per favore poteva esaudire il desiderio di suo padre. Viene chiamato un prete a fare da intermediario. Portavo i messaggi da un fratello all'altro da Rudolf Dassler che era seriamente malato a Adi Dassler che era ancora in piena attività e discutevo della questione con loro. Devo dire che il desiderio di riconciliazione non era solo da parte di Rudolf ma anche da parte di Adi. adolf Dassler mi disse che non nutriva alcun rancore verso il fratello che ormai era tutto passato ma non andò mai a trovarlo. Ai funerali di Rudolf il cimitero di Herzogenaurach è pieno. La scia di guerra è stata infine sepolta. Tutti si chiedono se Adi verrà ma nessuno lo vede. Il leopardo non può cambiare le sue macchie. Molti dei presenti naturalmente si chiedevano se Adolf sarebbe venuto ma nessuno osò dirlo ad alta voce. un proverbio dice che la lima del rancore lenta consuma il cuore i due fratelli erano stati lontani per troppo tempo era difficile per loro riavvicinarsi ormai il loro rapporto si era logorato erano diventati come due stranei. Adi muore quattro anni dopo Rudolf viene sepolto nello stesso cimitero ma dal lato opposto lontano da suo fratello. La loro è una rivalità che continua anche dopo la morte. A capo dell'Adidas insieme a sua madre Kete c'è adesso Horst il figlio di Adi un imprenditore della nuova generazione. Horst era un imprenditore globale aveva costituito una rete di imprese per assicurarsi l'esclusiva ai campionati europei di calcio e alle Olimpiadi uno dei maggiori talenti negli affari che io abbia mai conosciuto. Molti hanno detto che mio padre avrebbe voluto avere lo stesso talento di Horst ma io non credo sia vero non conoscevo Horst ma so che molti affari sporchi sono associati al suo nome. In confronto l'affare di Pelé era una sciocchezza non era nella natura di mio padre comportarsi senza scrupoli. La concorrenza si fa sempre più spietata. un giorno Armin Dassler e suo figlio Jörg sono a casa insieme. Ero seduto con mio padre nel soggiorno della nostra casa a Herzogenaurach. Lui era appena andato al telefono e io cercavo di sintonizzarmi su una stazione radio quando all'improvviso sentì alla radio la voce di mio padre che parlava al telefono. Si trattava di qualcosa di illegale. C'era una cimice nel telefono. Lascio alla vostra fantasia a immaginare chi potesse essere stato. Di sicuro le alternative erano poche. Non ero certo io a spiare mio padre. Chiunque abbia messo la cimice nel telefono di Armin conosce i progetti della Puma. La società ha appena firmato un contratto con il tennista Boris Becker. La battaglia con l'Adidas è il suo prezzo. I milioni pagati a Becker mandano quasi in fallimento la Puma. Per tutta risposta l'Adidas ingaggia Steffi Graf. Il duello si fa sempre più spietato. Quando Lothar Matteus viene acquistato dal Bayer Monaco un club Adidas le cose per lui diventano complicate. Suo padre custodea la Puma e Lothar è sotto contratto con l'azienda di Rudolf. La mia famiglia aveva sempre lavorato per la Puma per cui io mi sentivo legato a quella società. Uli Enes mi capì ma voleva concludere il mio acquisto a tutti i costi così stipulò un accordo con l'Adidas che mi permetteva di indossare scarpe Puma anche se giocavo nel Bayern. Il problema era che il padre di Lothar lavorava per la Puma. Il ragazzo temeva che il padre sarebbe stato licenziato se firmando con il Bayern lui avesse dovuto indossare scarpe Adidas ma fu raggiunto un accordo se suo padre avesse perso il lavoro sarebbe stato assunto dall'Adidas. Herzog en Aura è sempre il centro di comando. Le sedi delle due compagnie rivali sono ancora sulle rive opposte del fiume Aura ma in seguito alla concorrenza con la Nike la produzione è stata da tempo spostata in Medio Oriente e oggi a prendere le decisioni sono i vari azionisti. La guerra tra i due fratelli ha assunto proporzioni internazionali. Durante i mondiali di calcio 2006 migliaia di tifosi senza biglietto guardano l'emozionante finale sugli schermi giganti. Forse nessuno si rende conto che si tratta anche di un incontro disputato tra l'Adidas e la Puma. Per la prima volta nella storia le due rivali si affrontano in una finale mondiale e tutte e due vogliono vincere. Non c'è dubbio che per la Puma si sia trattato di un evento epocale. Nella sua storia la società non aveva mai vestito una squadra che era arrivata a una finale mondiale. La Puma è stata molto fortunata a ritrovarsi in finale. Nella sua lunga storia non era mai riuscita di insidiare la supremazia avuta dall'Adidas in ambito calcistico. È un momento atteso da 80 anni. La domanda era Adidas o Puma? E mettendo da parte tutto il resto la partita che si giocava era proprio tra le due società. Entrambe le compagnie si dichiarano vincitrici dei mondiali 2006. La Puma sponsor dell'Italia ottiene il prestigio della vittoria. Lo sponsor della Francia l'Adidas conquista una percentuale maggiore di mercato. La battaglia continua. La battaglia continua. La battaglia continua.